50 match ce l'abbiamo fatta, scusate se non ho più la voce, sono felicissimo per lei che se lo merita e oggi ha coronato un sogno perché insomma era tanto che lo rincorrevamo, siamo contentissimi, è stato un match durissimo, è chiaro era lì lì però se per una volta abbiamo qualcosa in più noi ragazzi, cavoli, ce lo meritiamo in fondo lei? molto dura però le ha prese anche lei quindi va bene così, sono contenta, è una delle atleti più forti che ci sia adesso in circolazione penso che abbiamo fatto un bel match e di essere stata all'altezza e di pensare anche di averla battuta insomma, sono contenta questo lo inseguo da due anni saluti il guerriero il guerriero, siete carinissimi, saluto sì, grazie di tutto, grazie per dei bellissimi articoli, grazie ciao, grazie